Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite Bruno Maccari. A questo punto noi, la tua scheda tecnica, a livello discografico, ti conosciamo, ma chi ti ascolta? Se dovessi descrivere Bruno, come lo descriveresti? Come un eterno ragazzo, stile Gianni Morandi, come un personaggio artistico con la sindrome di Peter Pan, che svolazza da uno stile di musica a un'altra. Senza crearmi problemi nello scrivere tra le righe e mai volgare. A questo punto parliamo dell'ultimo brano. Chiaramente un brano estivo con un titolo appunto Mare, Mare, Mare. Quindi probabilmente il tema è il mare. Sì, il tema è il mare, il tema è la gioiosità di qualsiasi bambino, donna, uomo che si affaccia all'estate e quindi la voglia di duffarsi nel mare, di passare le vacanze e anche i weekend nei posti delle nostre spiagge italiane, che ce ne abbiamo tantissime, bellissime, addirittura paragonate a spiagge, come la Sardegna, come la Sicilia, come la Puglia, come Rimini, Riccione, Costiera Agrialica, come tanti posti tipo le Maldive, le Rif, non c'è bisogno secondo me di andare là quando abbiamo dei posti favolosi qua a casa nostra. E abbiamo visto anche un videoclip dove chiaramente tu sei vestito un po' da gangster stile... Ricordi un Fred Buscaglione vestito di bianco, con sta camicia nera? Dunque, Buscaglione, sì, Buscaglione, guarda che luna! Favoloso. Gangster no, mi dissocio assolutamente dai gangster, anzi io sono il contrario, sono più umano degli umani perché sono sempre disponibile con tutti a parlare, a scherzare, a giocare, a dare una mano pure ai più bisognosi. Più che altro, diciamo, l'uomo del monte, dai, ti ricordi tu magari, non so se ti ricordi quella pubblicità, l'uomo del monte ha detto sì, quindi tutti a tagliare gli ananas per poi fare gli ananas in barattolo. Ma quello è un costume da scena, è uscito fuori così, era nato come McCary, che era un personaggio nato prettamente per i Paesi dell'Est e poi un bel giorno, questa canzone l'ho rifatta di nuovo nel 2019 ma è nata nel 2015, già abbiamo girato un videoclip nel 2015 con Mare Mare, abbiamo un mare in meno e è venuto a girare con me da Budapest Janko Horvath, un caro amico e cantante che abbiamo cantato un sacco di volte insieme in Ungheria e gli proposti di venire a girare questo videoclip, venne anche il papà che è un famoso chitarrista sempre ungherese e abbiamo fatto Mare Mare Mare, ma è Mare Mare. Poi è cantata sempre in italiano, scritta da me, test, musica e tutto quanto e lui che non parlava neanche una parola in italiano, si è prodigato ad imparare qualcosina quindi è riuscito un po' a cantarla stile Mal, ricordi Mal quello che cantava Furia Cavallo del West, quindi un po' così, un po' smaltito ecco e dopo mi è rivenuto a mente di farlo un po' più disco dance, tagliarla al posto di quattro minuti e mezzo, farlo tre minuti radiofonico, tre minuti e mezzo, tre e quaranta e cantata soltanto da me. Quindi abbiamo appunto fatto questa canzone sul litorale romano quel giorno, quei due giorni erano di passaggio, che erano in tournée dei 25 finalisti di Miss Universo Marco Ciriaci, che era il presidente di Miss Universo Italia, mi ha detto che passava a trovarmi e mi ha detto ne approfittiamo così io devo fare un bel videoclip estivo, lo giriamo tutto quanto su una bella spiaggia privata ad Ostialido e così abbiamo fatto un suaro. Abbiamo creato questo videoclip con questo brano riarrangiato e credo che a parer del popolo non sia da buttare via. E scopriamo, no scopriamo, abbiamo visto, abbiamo scoperto in verità, che in Europa dell'Est è fatto tante tante cose. Abbiamo detto X Factor Romania, X Factor Ukraine, ma è ritenuto anche premi e importanti. Sì, ho avuto tantissime belle esperienze in Romania, in Ucraina, in Ungheria, in Slovacchia, in Russia anche, sono stata a Mosca per tre volte, tre, quattro volte. Il premio che è stato più un elogio, un omaggio, l'ho ricevuto in Ucraina, dove sono arrivato anche in semifinale a X Factor. Poi sono stato anche in Romania con una canzone che ha preso il disco di Doro in Ucraina e alla prima mi hanno buttato fuori subito, immediatamente, perché non è stata capita. Non so per quali motivi, però insomma non meritava di avere soltanto un voto su quattro e quello che me l'ha dato, un po' come se gli avessi fatto tenerezza. Mi ricordo che non si fa, ma io una volta sceso dal palco ci sono le telecamere che ti fanno le domande, come ti sei sentito, eccetera, eccetera. Io gli ho detto, a parer mio i giudici che avete là dietro non è che sono molto esperti, perché se dovessero essere esperti di musica internazionale, dovrebbero capire pure che è un brano che tira, ti porta la voglia di ballare, i testi sono italo-spagnoli. Sono rimasto deluso e ho fatto capire proprio la mia delusione che c'è stata, perché non ho ricevuto un giusto apprezzamento. Ma come? Con questo brano arrivo in semifinale in Ucraina, poi in un grande anfiteatro prendo un disco d'oro e voi alla prima le buttate fuori. C'è qualcosa che non quadra, non l'avete capito sicuramente. Oppure l'età avanzata che io ho superato i venti abbondanti non è stata per la quale per cui eravate interessati a mandare avanti un un artista un artista italiano come come mezzo. Invece la come nascono le canzoni? Nascono prima i testi, nascono prima la musica, oppure nascono insieme? Ognuno ognuno ha il suo modo di di creare le canzoni. Ognuno ha un modo diverso, ogni artista ha il suo stile. Io tante canzoni per esempio escono fuori da dei sogni che ho fatto, quindi catturo l'idea che ho sognato, che nel sogno sembra una cosa bellissima. Poi quando sei di sveglia in realtà non è quella del sogno, però con sempre il registratorino vicino da me a letto mi registravo quelle quattro o cinque note che avevo sognato per poi portarle in studio e lavorarci sopra. Tu volevi sapere se inizia prima, se creo prima il testo o la musica? No, prima io inizio sempre con la musica, inizio con la musica, in base alla musica l'idea che mi viene fuori, poi creiamo una struttura, non un arrangiamento senza chitarra, senza niente, una semplice struttura con il pianoforte e poi su questa struttura mi viene l'idea di magari di cantarla a favore dell'amore, a favore della vita, a favore di... ho fatta una per esempio contro la guerra, contro le guerre in generali, attualmente ovviamente più spinta verso la guerra in Ucraina e poi faccio il testo e poi il testo appunto... la musica una volta costruita la base con il piano, con i sintetizzatori, mi viene l'idea di questa voglio... viene una cosa automatica, non so neanche come spiegarti. Poi ovviamente mi hanno fatto fare anche delle canzoni, fammi una canzone cristiana, ho fatto la canzone cristiana che parla di Gesù, di Dio e lì era proprio già premeditata nel... prima di iniziare anche la musica, quindi già sapevo cosa dovevo fare... è più facile, visto il genere di musica che attualmente gira, la trap e tanti altri, è più facile inserire le parole in un testo oppure sottrarre le parole in testo, cioè renderla molto sintetica ma efficace oppure troppo distruttiva nelle parti. sottrarle da un testo, nel senso tu dici vuoi intendere modificarle, poi catturare gli errori... ma innanzitutto, come quando eravamo bambini che stavamo a scuola col quaderno a righe e a quadretti, fai la bella copia, poi dopo fai la brutta copia e poi farai la bella copia, la stessa cosa vale per un testo. Io scrivo un testo, lo butto giù lì per lì, poi con il passare dei giorni, ascoltandola, magari dico qui invece di metterci luna ci mettiamo sole, lì invece di metterci acqua ci mettiamo fiume. Quindi vengono modificate poi le parole, perché più la senti un brano e più ti rendi conto dove dove ci sono gli errori, ma più che errori, diciamo, dove possono essere effettuate delle modifiche, dei miglioramenti, no? Questa è una questione soltanto di tempistica. E quindi piano piano poi esce, vengono tolte, vengono messe parole, vengono modificate. E' un purpurri di idee che quando, ogni un po', ripeto, ogni artista ha il suo modo, ha il suo stile. Non c'è un libro che ti dice la canzone la devi costruire così. Quando sei un cantautore e hai licenza di scrivere, come la gente 007, no? Hai licenza di scrivere quello che ritieni giusto, ritieni che rispecchia la tua personalità. Che differenza passa tra i tali, visto che ne hai tirati da X Factor? La differenza tra l'Italia, la Romania e gli altri paesi in questo caso? Allora, generalmente nei paesi dell'Est apprezzano tantissimo la musica italiana, l'adorano. Ci sono paesi all'estero che sono radicalizzati sul loro stile. Ad esempio, in Romania, sono fossilizzati su uno stile che si chiama Manele. Non è che viene molto apprezzata la musica italiana quanto può essere apprezzata in Russia, in Ucraina, in Slovacchia, in tante altre zone. Ecco, credo che anche per questo non ho raccolto frutti in Romania, visto che la prima battuta, diciamo che sono stati quattro voti negativi. Perché loro sono molto fossilizzati. Tu tieni presente che l'artista italiano va all'estero e porta le sue canzoni all'estero, non soltanto nelle comunità italiane, ma proprio tra la gente, tra la gente che ama il Toto Cotugno, il Adriano Cellentano, il Pupo, il Mattia Bazzar. Ce ne stanno tanti di queste artistiche, quella decade che entrarono le prime onde televisive nei paesi dell'Est, si sono attaccati a quei personaggi, tra altre cose, poi Cellentano è quello che ha portato il rock in Italia. E quindi ci stanno appunto altri paesi che invece non si rapprezzano, non astimano, però continuano per la loro strada a seguire il loro target di musica e vanno avanti loro. E l'emozione, le sensazioni che hai provato nel suonare dal vivo in questi posti, soprattutto quando si apre la quarta platea, che in realtà inizialmente stanno in silenzio, chi ti ascolta, poi loro si emozionano, o comunque cercano di cantare, sono partecipi e ti mandano quell'energia. Tu che sensazione provi? Ma ogni volta che salgo sul palco è un'emozione. È sempre un'emozione. Quell'emozione, che non posso negarlo, ti leva almeno un 10%, 15% di potenzialità che hai, perché poi specialmente magari se è una cosa importante ti tremano un po' le gambe, ti senti un po' un pesce fuor d'acqua, di oddio ce la farò, magari prendere una stecca. Ti prende l'emozione, ma poi una volta che tu sali sul palco vedi veramente il calore della gente che aspetta per loro, sei un divo anche se non sei nessuno. Ti faccio un esempio. Il mio caro amico Marco Armani, ma è armenise, è una persona stupenda. Un giorno io stavo all'aeroporto di Kiev, stavo aspettando un piccolo aereo per andare in un paese, a fare in un'altra città, a Amerskin, per fare un concerto, mi dicevo e ti questa telefonata, tra l'altra cosa sono 36 ore, stavo dicendo euro, fermo, bloccato in aeroporto per una tormenta di neve assurda, 36 euro in aeroporto in un paese dove riesci a dire soltanto ciao, come stai, è dura, eh? Mi disse Bruno, senti, vedi un po' un attimo se lì serve, vengo anch'io con te, qualche volta andiamo a fare qualche concerto, insieme, e io gli dissi, credimi Marco, neanche se il pianere è nato zero, Battisti, Antonello Venditti, li amano, Celentano, Pupo, Mattia D'Abbazzar, Albano, Toto Cotugno, e gli altri cantanti, Baglioni per esempio non sanno neanche chi è, cioè non avrebbe un successo là, perché appunto, ritornando al discorso di quella... quella famosa, quel famoso anno che, dopo il muro di Berlino, che le onde radio sono andate in Russia, in Ucraina, a tutti i paesi dell'est, eccetera, eccetera, e loro, i primi che hanno visto sul palco di Sanremo, si sono innamorati, e gli sono rimasti nel cuore, Celentano è il top, il non plus ultra, proprio, rimasto nel cuore a tutti, insieme a Toto Cotugno, che credo che viva anche a Mosca, se non vado errato, e poi altri cantanti che prendono l'ero, fanno i concerti, guadagnano una barca di soldi, e quindi loro sono rimasti nel cuore, ma ci sono tanti artisti nostri, io adoro Masini, Zarrillo, Lucio Talla, Renato Zero, Baglioni, quindi conoscono sicuramente il nome molto popolare, però non vengono apprezzati. Uno dei cantanti molto apprezzati, al di fuori di questa piccola cerchia, di quella decada di Sanremo, è Gianni Morandi, ad esempio in Ungheria, la canzone più famosa di Gianni Morandi, è Il ginocchio da te, la canzone più famosa conosciuta in Russia, è Confessa di Adriano Celentano, cosa che qui l'avremmo sentita dieci volte, al massimo, quella canzone faceva tu, confessa amore mio, io conoscevo altre canzoni da Adriano Celentano, Azzurro, sono, e invece se tu gli dici, che ne so, la canzone di Antonio Romanditti, L'inno della Roma, per esempio, chi è? Non lo so, eppure, eppure abbiamo tanti tanti artisti noi famosi qua, che lì non è che non vengono apprezzati, non sono proprio conosciuti. E invece l'emozione che hai provato quando scendi al palco, che ti si avvicinano per complimentarti, per farti delle domande, qual è la, oltre che alcuni hanno il titubanza, oppure sono emozionati, non ti fanno la domanda perché, forse, sono un po' troppo emozionati, però, qual è la tua reazione quando ti si presentano e ti fanno appunto il complimento di tutta questa cosa, ma soprattutto ti chiedo anche l'autografo. beh, il sorriso te lo devi portare appresso sempre, anche quando magari c'è un mal di testa, e io non mi sono mai, una volta, mai tirato indietro a un autografo, a un abbraccio, a foto con bambini, con persone grandi, sono sempre stato disponibile con tutti, sempre, sempre, perché, appunto, questa c'è una passione dentro, e poi dai, la letorica, è letorica, dire che in Italia veramente, riuscire a, oggi se non fai le cavolate che fanno tanti, tanti artisti italiani, questi giovani di oggi, che, secondo me, non hanno cultura della musica, la vera musica italiana, che escono da questi brand, da questi, da queste, da queste realtà veloci, no? diventano famosi in quattro secondi, e invece, gli artisti quelli più grandi, che scrivono con saggezza, scrivono, la vera musica italiana, che poi, la culla della musica è Napoli, lo sappiamo tutti, eh, io penso che l'Italia sta perdendo tanti punti, con, con la vera musica, d'autore, ci sono troppe, troppe musiche, che, io li chiamo i limoni da spremere, e quei pochi soldi che hanno guadagnato, poi li vanno a buttare in uno psicologo, non capendo, perché dopo, dopo due anni, non fanno più un concerto, toccata il fuoco di Bach, usa e getta, no? Poi altri, molto più bravi, intelligenti, i ragazzi, escono fuori, continuano, perseverano, perché, perché alle spalle hanno, hanno una, una, una società, una, una grande azienda che, che li spinge, ma tanti vengono spinti soltanto per, per il momento, infatti, la maggior parte sono quelli, io tifo per, per la vecchia guardia, per noi, per noi abbiamo superato i 25, va, ecco, facciamo così. A questo punto, progetti per il futuro, si parte per, il tournè, per live? Adesso stiamo lavorando con, guarda, potrei lavorare alla mattina, alla sera, nei ristoranti, nei pub, eh, però io, queste cose, queste cose, le, le, cerco di evitarle, perché sto cercando di lavorare soltanto con le radio, per questo momento, e mi sto concentrando a scrivere canzoni, ne ho tante, mh, ho tante idee, mi piace, adesso sono andato in fissa, come si dice a Roma, con i tourmentoni, e no, ne sto lavorando altri due, per, per i prossimi due stade, se Dio lo vuole, che ci arriviamo, per lo meno che ci arrivo io, e, di progetti, che ho, il tour music fest, a settembre, mi hanno scelto, e poi, ho rinunciato a una tournè, che dove, mi portavano in tournè, però, no, no, non ho voluto, ma io, proprio, poi, piano piano, stiamo ritornando, dopo, due anni e mezzo, di problematiche, che ci abbiamo avuto, con sta pandemia, io sono uno, che fare cose con calma, non vado a chi appare subito, aspetta, vengo pure io, ok, vengo, no, 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 con calma, faccio lavorare, con tanta tranquillità, Pietro Giannette, della PG Production, con Leopoldo Lombardi, che è il rosso di sera, il produttore, che mi sta seguendo, e, tra le altre cose, lui, il settimo anno, è, l'avvocato di X Factor, e tu pensa, è l'avvocato di X Factor, io non sono neanche stato scelto, a X Factor Italia, dopo tante interviste, che, che mi hanno fatto, quindi proprio, se ci arriverò, credimi, senza nessuna spinta, senza nessun aiuto, anche se ho amici, insomma, che stanno dentro, che non esistono aiuti, devi fare, devi vincere con, con la forza, di, di quello che scrivi, se, è molto difficile arrivare, a, quando hai superato i 30 anni, vedi che piano piano, ci arriviamo di, di, di valutazione d'età, arrivare a un traguardo, però io non mi arrenderò mai, io finché avrò aria nei polmoni, la userò per cantare, quando avrò la mente limpida, la userò per scrivere, e quando avrò, ancora il cuore che batte, lo userò per scrivere emozioni, e voglio continuare così. Allora, intanto ringraziandoti, per, la bella, chiacchierata, diciamo così, chiacchierata, Allora, caro Pietro, un grande saluto, un abbraccio, a tutti i radioascoltatori, un, 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 un ciao, e un grande cuore speranzoso, in momenti migliori, come dicono tutti, speriamo che, che tutto si concluda, le guerre, le, 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 oggigiorno, oggigiorno viviamo, io tante volte dico, quando mi metto a dormire, speriamo che domani mattina, ci svegliamo vivi, io faccio un auguro speranzoso, e un aiuto, non a noi, ma a chi veramente ha bisogno, e a chi merita. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta, l'intervista di Pietro.